Una vecchia ombretto nè con un cappello e un ombrello di carta di riso e canna di bambù Capitani coraggiosi, furbi, contrabandieri, macedonini I Gesuiti e Euclidei, vestiti come dei bonzi per entrare a corte degli imperatori della dinastia dei dei Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose e sulla gente Avrei bisogno di cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose e sulla gente Grazie Un ringraziamento ai tenori che hanno accompagnato la performance di Tommaso Pini anche per te